è lei la regina delle domeniche oppure dei giorni di festa quando abbiamo tanti ospiti o tutta la famiglia a tavola. Alla pasta al forno ci sono davvero affezionata forse perché mi fa tornare bambina o perché è davvero una certezza. Continuo a prepararla esattamente come mi ha insegnato nonna Carmela ed è sempre un successo. Vediamo gli ingredienti che servono innanzitutto per preparare il ragù. 500 g di macinato, un litro e mezzo di passata di pomodoro, una carota, una costa di sedano, una cipolla, uno spicchio di aglio, un bicchiere di vino rosso, due cucchiai di concentrato. Per completare la pasta al forno utilizzerò 600 g di rigatoni, tre uova sode, due melanzane all'incirca un chilo, 120 g di prosciutto cotto, 350 g di provola filante, 60 g di formaggio grattugiato. La prima cosa di cui occuparsi è ovviamente il ragù, che è meglio preparare con un po' di anticipo per dargli il tempo di cuocere lentamente e anche di riposare un po'. Primo step il classico trito di odori. Quindi serviranno carota, sedano, aglio e cipolla per velocizzare. Metto tutto dentro un tritatutto. In una pentola capiente scaldo un generoso fondo di olio di oliva e inserisco il mio trito. Lascio soffriggere dolcemente per qualche minuto. Aggiungo poi la carne macinata. Di prima scelta la sgrano con un cucchiaio e mescolo di modo che prenda colore in maniera uniforme. Comincio ad insaporire anche con una macinata di pepe nero e a questo punto sfumo con il vino rosso, alzando la fiamma. Lascio evaporare l'alcol, quindi aggiungo anche il concentrato di pomodoro, che accentuerà il sapore del ragù. È il momento della passata di pomodoro e in ultimo il sale. Inizia la cottura vera e propria, sposto la pentola su un fuoco più piccolo perché dovrà cuocere a fiamma molto dolce. Con il coperchio socchiuso. Per capire quando il ragù è pronto basta osservarlo. L'olio dovrà salire in superficie e la salsa dovrà apparire omogenea e vellutata. Consiglio di lasciarlo comunque un po' più lento in modo che poi la pasta non si asciughi troppo in forno. Mentre il ragù cuoce abbiamo tutto il tempo di occuparci delle melanzane. Dopo averle lavate e spuntate le taglio a fette spesse circa 2 centimetri. Da queste ricavo prima dei bastoncini e poi dei cubetti. Le sposto in uno scolapasta, cospargo con del sale e lascio riposare un'oretta. Le mie melanzane hanno spurgato l'acqua di vegetazione, non tanto perché sono amare ma perché così assorbiranno meno olio in frittura. Vado quindi ai fornelli, olio di semi ben caldo, lascio soffriggere le melanzane fino a renderle ben dorate, quindi man mano le sposto su carta assorbente e lascio scaricare l'olio in eccesso. Bisogna anche bollire le uova che poi andranno lasciate raffreddare e sgusciare. Adesso tutti gli ingredienti sono pronti e visto che il ragù è giunto a cottura possiamo occuparci di cuocere anche la pasta che andrà scolata piuttosto al dente. Io la lascio cuocere solo per metà del tempo indicato sulla confezione. Scolo la pasta e la condisco con un po' di ragù e adesso viene il bello perché bisogna comporre la teglia che sarà ricchissima di sapori e di profumi. La mia teglia misura 25 x 35 cm. Sul fondo metto un po' di ragù. Poi formo uno strato omogeneo di pasta. La condisco con le uova sode tagliate a fettine, il prosciutto cotto, metà delle melanzane che ho fritto, una buona parte della provola che ho tagliato a cubetti, qualche manciata di formaggio grattugiato e ora lascio cadere sui condimenti un po' di mestoli di ragù. copro quindi con tutta la pasta restante, livellando. In superficie metto le ultime melanzane, la provola filante e uno strato di ragù per coprire il tutto. Ultimo tocco, una spolverata generosa di formaggio grattugiato che formerà una deliziosa crosticina. Sarà una bomba in tutti i sensi e adesso andiamo in cottura. Finalmente si va in forno, il mio è preriscaldato a 180 gradi in modalità ventilata. Occorreranno all'incirca 25 minuti per terminare la cottura della pasta ma soprattutto formare questa bella crosticina. Ecco qui la mia pasta al forno che adesso dovrà un po' riposare per poterla dividere in porzioni con più facilità. È difficile che avanzi ma se succede conservatele in frigorifero e l'indomani riscaldata forse sarà ancora più buona. Questa è la pasta al forno di nonna Carmela e non cambierei questa ricetta per nulla al mondo. Fatemi sapere però come la cucinate voi e io vi aspetto presto con un nuovo video, vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Valentina!